Via libera del Consiglio dei Ministri ha le nuove norme sulle concessioni balnearie. Le gare che dal 2024 verranno realizzate per affidare i beni demaniali terranno in considerazione comunque gli investimenti, servizi per i clienti, la cura della costa e dell'ambiente, la libera accessibilità da garantire la battigia per tutti, la stabilità dell'occupazione. L'ok del CDM con gli emendamenti al disegno di legge e concorrenze è stato dato all'unanimità. Riccardo Padovano, presidente Sib, precisa che ci sono state modifiche fatte al documento iniziale e che lasciano un filo di speranza con il disegno di legge che però sarà portato in Parlamento. Per questo bisogna premere assolutamente sui parlamentari. Intanto il presidente del Consiglio regionale Sospiri annuncia che la regione darà battaglia per i 700 balneatori abruzzesi. Il mio presidente nazionale e le altre hanno lavorato per fare in modo che Draghi prendesse mano a questa situazione. Ci risulta che il ministro Garavaglia ha fatto un buon lavoro. Certamente se ci dice se siamo contenti, non siamo contenti. Parzialmente adesso la partita la si gioca in Parlamento. Lì dobbiamo trovare i miglioramenti. Intanto sono state cancellate due norme importanti. La cancellazione del 45 bis che era una cancellazione prettamente demagogica. Ossia? Ossia non può impedire a un'azienda di poter dare in gestione un ramo d'azienda. È contro la normativa europea. La seconda è quella che quando uno deve cedere la propria attività, cioè va all'evidenza pubblica, non alle gare, evidenza pubblica, poi la gare è una cosa successiva, c'è il riconoscimento aziendale per il concessionario che perde. Quindi va messo in discussione tutti gli investimenti. E poi, devo dire, lo dico a questa emittente, noi domani mattina il Sib in conferenza stampa a livello nazionale... Annuncia che farà ricorso in Cassazione. Perché ribadiamo che il legittimo affidamento per quanto riguarda i concessionari esistenti gli vanga riconosciuto. Anche Cristiano Tomei, presidente CNA Baleatori, dice che la partita ora si deve giocare in Parlamento. C'è il rischio di mandare veramente in liquidazione 30.000 piccole imprese italiane. 30.000 famiglie che negli anni hanno realizzato un'offerta eccezionale che ha riscontrato i favori del turismo nazionale e di carattere continentale. Investimenti non solo materiali, ma il lavoro di una vita. E quindi viene messo a repentaglio a partire dal 1 gennaio 2024 non solo il settore balneare, ma tutto l'indotto che ruota intorno all'economia costiera. Perché non ancora viene conclusa la mappatura prevista nel disegno di legge sulla concorrenza che renderebbe un dato fondamentale, importante. Ossia capire se ci sono ancora spazi per nuove iniziative imprenditoriali e garantire la continuità delle attuali imprese. Noi riteniamo di sì e poi prendere qualsiasi decisione e da questo punto di vista ci affidiamo adesso alla decisione del decisore politico, ossia del Parlamento.